Belen Rodriguez sfoggia un completo di pizzo, la perfezione esiste I fan non possono resistere al suo fascino da diva, Belen Rodriguez ancora una volta ha conquistato il suo pubblico, postando una foto in cui esibisce un completo intimo in pizzo nero che ha fatto perdere la testa a migliaia di persone Fisico scultorio e viso da fata, la showgirl argentina ha dimostrato al mondo che la perfezione esiste e lei ne è la prova vivente La perfezione è donna, Belen Rodriguez lo dimostra Capelli vaporosi e lucidi, morbidi come una nuvola, un maca-up curato, ideale per valorizzare i suoi occhi e le labbra carnose e un fisico scultorio che farebbe impallidire qualsiasi top model di fama internazionale, la perfezione è donna e si chiama Belen Rodriguez La showgirl argentina ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto della nuova campagna per il brand di intimo Iadea e i fan sono letteralmente impazziti Il completo intimo in pizzo nero ha perfettamente valorizzato il corpo scolpito e armonioso della Rodriguez che continua a sfoggiare una sensualità senza uguali Sono moltissimi infatti brand nazionali e internazionali che hanno scelto Belen come testimonial dei loro nuovi prodotti, certi di riscuotere un successo assicurato, la showgirl infatti è un'autentica web influencer, seguita da più di 6 milioni di persone Oltre ad essere uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, la Rodriguez ha ampliato i suoi orizzonti, iniziando a collaborare come testimonial, influencer e anche come designer di moda La sua carriera infatti sta vivendo un momento di grandissimo successo, merito del suo carisma e del suo corpo mozzafiato Sui social sono tantissime le persone che le scrivono per ricevere consigli di stile e di bellezza e la showgirl ha dimostrato di apprezzare molto questo nuovo ruolo, consiglia infatti i prodotti della sua beauty routine e gli outfit che sfoggia in occasioni pubbliche e private Belen alla conquista del mondo, una vita al top Si può dire che questo sia un momento molto positivo per la vita privata e la carriera di Belen Rodriguez, la sua relazione con il campione italiano Andrea Iannone, nonostante i molti pettegolezzi, procede a gonfie vele da poco Il bellissimo Santiago ha iniziato il suo percorso scolastico La showgirl non perdi occasione per condividere con i fan i momenti più belli della quotidianità, come ha fatto durante il primo giorno di scuola di suo figlio, e il pubblico la sostiene sempre, desiderosi di dimostrare alla sua beniamina tutto l'affetto che prova Dopo una lunga estate calda trascorsa per la maggior parte del tempo a Ibiza, con la famiglia e gli amici, Belen ha ripreso i suoi numerosi impegni di lavoro in televisione, senza tralasciare gli shooting fotografici che l'hanno vista protagonista anche recentemente Bella, determinata e brillante, la Rodriguez è diventata un'icona di stile e una delle influencer più apprezzate del momento, conquistando una larga fetta di pubblico, anche femminile Il suo successo è destinato ad aumentare, a dimostrazione di quanto il talento sia necessario per continuare a vivere sempre sulla cresta dell'onda Il suo successo è diventata un'icona di stile e un'icona di stile